Un minimo in approfondimento sull'alto tirreno e in rapido movimento verso sud-est. Il fronte associato interesserà anche le nostre regioni. Dalle prossime ore, ingresso di fredde correnti di matrice continentale. In Toscana, mercoledì 19 aprile, tempo molto instabile, poco nuvoloso in mattinata, nuvoloso nel pomeriggio, con possibilità di rovesci sparsi, miglioramento in serata. Denti sino a forti di grecale, in particolare sul litorale centro-meridionale, arcipelago e sui crinali appenninici. Mari poco mossi sotto costa, mossi o molto mossi a largo. Temperature insensibili e calo su valori inferiori alle medie del periodo, massime prossime a 15 gradi, minime inferiori a 5 gradi e localmente prossime allo zero. Sul territorio provinciale da Sereno a coperto fino a Sereno. A Lucche sulla Piana, temperatura minima 2, massima 15 gradi. A Castelnuovo Garfagnane, zone montane, minima 2, massima 12. A Biareggio e sul litorale, minima 7, massima 13 gradi. Giovedì, sereno, poco nuvoloso, con temperature minime in ulteriore calo, vicine allo zero.